Io ti dico la verità, io sono una donna molto libera e a me devi avere colpo di fulmini, è una cosa che io sono stata tre mesi, ho aperto la porta, non hanno voluto entrare, faccio dieci passo, uno, tre indietro, capito? Perché automaticamente non è che devo pregare per avere un rapporto, se tu vuoi io ci sono, se no, pace. Beh però puoi anche avvicinarti agli altri, ma lo faccio appunto, però non è vero che un giorno saluto, l'altro giorno non saluto. Rosalinda ha commentato queste immagini dicendo non ho parole, chi ti ha deluso? No, sicuramente alcune parole di Selvaggia, dove appunto mi sono sentita dire che ok, dico che non mi faccio condizionare, ma fondamentalmente lei vede un condizionamento. Di questo ho già parlato anche con Daiani, perché nella scorsa puntata io mi sono resa conto, e credo sia anche una verità, che in maniera inconscia è possibile che siano accaduti dei condizionamenti, ma come credo accadano a chiunque qua dentro, quando stringono un legame molto forte. Quindi non sono la sola ad essere comunque condizionata. Rosalinda ti faccio una domanda precisa, ritieni sinceramente che Daiani sia possessiva nei tuoi confronti? Allora, ti dico con tutta sincerità come ho detto questa cosa del condizionamento, possessiva mi sembra una parola un po' troppo forte, c'è sicuramente dei momenti di gelosia, ma come li posso avere anche io nei suoi riguardi, perché c'è un legame molto forte. Grazie. 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 Grazie.